Buonasera da TG Marche, bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come di consueto siamo in contemporanea streaming anche sul nostro sito etvmarche.it, la nostra pagina Facebook e la nostra app. In primo piano la cronaca con un incidente che nella serata tarda di ieri ha strappato alla vita una papà di 53 anni a seguito di uno scontro tra un'auto ed una moto nei pressi del comune di Monsano. Un terribile frontale, la moto finisce contro un'auto nella notte, il centauro sbalza dal mezzo per diversi metri morendo sull'asfalto. Questo è successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Monsano in via Marche, nei pressi dell'ex Mercatone 1. A perdere la vita Domenico Pengue, 53 anni, di Monte San Vito, magazziniere in un'azienda a Iesi, lascia due figli. Il ragazzo alla guida dell'auto, un 25enne di Filottrano, ha riportato nel sinistro ferite lievi ed è stato portato in stato di shock all'ospedale. Sul posto la croce gialla di Chiara Valle, automedica del 118 di Iesi e i carabinieri. I militari dell'arma, coordinati dalla procura di Ancona, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta, stanno conducendo le indagini. Al momento c'è massimo riservo. Dalle prime informazioni sembra che all'origine dello schianto ci sia stata un'invasione di carreggiata, da cui è scaturito il violento e inevitabile frontale. Non si esclude che possa essere aperto un fascicolo per omicidio stradale e che vengano disposte le analisi tossicologiche per droga e alcol per il giovane alla guida della vettura. Ancora cronaca, in questo caso però trattiamo il tema delle sostanze stupefacenti, in particolare con corrieri che arrivano dal sud. Una coppia è stata bloccata sull'autostrada a 14 con due chili di droga, nascosta nel doppio fondo del baule, l'area di servizio conero ovest del comune di Nomana. La polizia di stato con una pattuglia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio è intervenuta nel corso dell'attività di vigilanza e controllo della tratta autostradale di competenza. All'interno dell'auto un uomo e una donna provenienti dal sud Italia, che destavano subito dei sospetti. Gli operatori, controllato attentamente il veicolo, lo hanno scoperto nel bagagliaio, un vano appositamente creato e con doppio fondo all'interno del baule, nell'area compresa tra questo e il paraurti posteriore, dietro ad una piastra metallica, quattro grossi involucri di sostanza stupefacente, avvolti da cellofane e nastro adesivo. Sono intervenuti anche i cani antidroga della Questura, la polizia scientifica di Ancona, che ha accertato i due chili di ruina pura, che avrebbe sviluppato sul mercato il doppio del quantitativo con un grosso illecito di profitto. I due sono stati immediatamente arrestati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. E a proposito di sostanza stupefacente, questa volta l'intervento è stato della Guardia di Finanza, che ha scoperto una piantagione di marijuana nei pressi della Marina Dorica di Ancona. A due passi dalla Marina Dorica, lungo via Flaminia di Ancona, i finanzieri della Compagnia e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziare del Capoluogo hanno scoperto una piantagione di marijuana in piena regola. Sono oltre 70 le piante sequestrate dalle fiamme gialle, che hanno anche denunciato a piede libero un extra comunitario per il reato di illecita coltivazione. L'attività della finanza ha preso le mossa a seguito di una segnalazione fatta dai colleghi del comparto aeronavale in particolare, dopo un volo di monitoraggio del territorio effettuato dall'elicottero della sezione aerea di Rimini. La Guardia di Finanza del reparto aeronavale ha notato le piante abilmente nascoste tra la fitta vegetazione nei pressi di un casolare abbandonato collocato in un terreno adiacente al parco di Posatora, allertando immediatamente i reparti territoriali. Ne è nata una successiva attività di appostamento portata avanti in collaborazione tra i finanzieri della Compagnia di Ancona e della sezione GOA del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che ha consentito di individuare uno straniero che stava entrando all'interno del terreno. I finanzieri intervenuti hanno perquisito l'area, trovando e sequestrando 71 piante di canapa di ottima qualità. L'uomo, un 55enne dell'Est Europa, è stato denunciato. L'operazione conferma l'attenzione della Guardia di Finanza nel capillare controllo del territorio marchigiano, anche nel settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, a tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini e, in particolare, di quelli più giovani. Voltiamo pagina, ci occupiamo delle polemiche che sono nate sulla situazione nelle Marche, il tema è quello dell'aborto, l'amice scattata da un post dell'influencer Chiara Ferragni che accusava fratelli d'Italia, in particolare per quello che è la situazione nella nostra regione. I dati da parte del Ministero della Salute, l'ultimo rapporto che è relativo al 2020. Diritti, aborto, donne, tre parole chiave attorno alle quali si è scatenata subito la polemica, la miccia, l'irruzione tra i temi della campagna elettorale da parte di Chiara Ferragni. La nota influencer, riprendendo un articolo del The Guardian, ha accusato fratelli d'Italia di aver reso impossibile nelle Marche l'interruzione volontaria di gravidanza. A margine, appena martedì scorso, la leader Giorgia Meloni ad Ancona. Il diritto all'aborto non è minimamente messo in discussione e l'immediata levata di scudi dell'assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Salta Martini, a cui hanno fatto eco vari esponenti di Fratelli d'Italia, come la presidente della Commissione Sanità del Consiglio delle Marche, nonché coordinatrice del partito della Meloni in Regione, candidata all'uninominale al Senato Elena Leonardi. Aborto negato? È falso la sua risposta indiretta alla Ferragni. Chi lo dice lo deve provare, oppure scusarsi. La Regione ha deciso di non applicare l'aggiornamento alle linee guida ministeriali, datato 2020, giunta a Quaroli, sull'utilizzo della pillola RU486, il metodo farmacologico, vietandone di fatto la pratica nei consultori e limitandone l'uso alle prime sette, invece che nove, settimane di gestazione. La Regione in questi anni ha sempre ostacolato la piena applicazione della legge 194, l'accusa che arriva dalla CGL delle Marche, che a febbraio ha diffidato formalmente Palazzo Raffaello. Secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Salute, nelle Marche il 93% delle strutture sanitarie sono disponibili per le interruzioni volontarie di gravidanza, contro una media nazionale del 62%, ma il 70% dei ginecologi professa l'obiezione, il 42% sono anestesisti, il 22,5% personale non medico. In sintesi, aborto possibile, ma percorso decisamente ostacolato. Riprendendo il rapporto ministeriale, Nel 2020 sono state registrate 1.351 interruzioni volontarie di gravidanza, di cui il 16% di tipo farmacologico. Poco più della metà ha riguardato donne nubili, il 41%, donne sposate, per una percentuale del 24% nella fascia di età tra 35 e 40 anni. Più in generale, il tasso di abortività regionale è del 4,5%, più alto, oltre il 7%, nella fascia che va dai 25 ai 39 anni. Il 64% delle donne si è rivolto ad un consultorio, ce ne sono 69 funzionanti nelle Marche, tutti pubblici. Tema questo della situazione nelle Marche per l'aborto che ha infiammato la campagna elettorale. E a proposito di campagna elettorale, la presentazione dei candidati da parte del Partito Democratico Marchigiano. Io penso che questa volta, come mai, si parta davvero 0 a 0, perché per la prima volta ci sono quattro coalizioni, tutte quattro dotate di numeri anche da parte dei sondaggi, quindi le coalizioni più piccole ruotano attorno al 10%, e quindi anche per questo motivo credo che la competizione sia assolutamente aperta. Non si lascia spaventare dai pronostici sfavorevoli il Partito Democratico delle Marche in vista della competizione elettorale del prossimo 25 settembre. A Dancone il commissario del partito, Lo Sacco, tra l'altro in corsa per le politiche, presenta i candidati marchigiani della coalizione del centro-sinistra tra Camera e Senato, pronti a conquistare uno scranno a Roma. Prevista nelle prossime settimane anche la visita nelle Marche del segretario Dem, Enrico Letta. La nostra squadra è una squadra forte, estremamente competitiva, ricca di personalità, personalità sia interne al partito, al mondo della politica, ma anche personalità che esprimono il meglio del civismo di questa regione. Penso al rettore dell'Università di Camerino, alla Presidente della SCIA, Marco Bentivogli. Io credo che la competizione ci sarà, sarà reale, il campo è aperto, segnalo che il centro-destra ha candidato diversi assessori, quattro per la precisione della giunta Acquaroli, che indica come modello, anche modello nazionale. È molto strano, è una contraddizione smantellare una giunta che si vuole far passare come modello. Io più che modello vedo un fuggi-fuggi dalla giunta regionale delle Marche. Chiudiamo invece parlando di letteratura, dell'Inferno, della divina commedia di Dante, una lettura che si può fare anche al tramonto e di fronte al mare, in spiaggia. Vediamo di che si tratta. Non isperate mai vederlo cielo, i vegno per menarvi all'alta riva, nelle tenebre terne, in caldo e in cielo. Tramonto, piedi sulla spiaggia e terzo canto dell'Inferno. Un Dante inedito sbarca nella riviera del Conero attraverso la voce di Simone Terreni, amministratore delegato di una delle 50 principali aziende di telecomunicazioni in Italia. Inserito da Forbes nel 2021 tra i migliori 100 imprenditori italiani, Terreni è anche divulgatore ed entusiasta esperto della divina commedia. Ha letto a pochi passi dalle onde il famoso canto dell'opera dantesca che lui stesso definisce il libro più bello del mondo. Dante era un innovatore, era un innovatore perché, se ci pensate, lui viveva nel Medioevo dove regnava assoluto il latino e invece decide di scrivere il libro più bello del mondo nella lingua volgare. Cambia il modo di intendere la lingua italiana, delle 2000 parole che noi usiamo abitualmente in italiano già sono presenti nella stessa accezione moderna nella divina commedia. Dante è stato anche qui, nelle Marche, parla del Tronto, parla del Conero. Esperto di digitale, il suo nuovo lavoro è un libro che attualizza la divina commedia ai giorni nostri, crescita personale e professionale a suon di canti e consigli del celebre Virgilio, un viaggio tra l'inferno, della vita quotidiana e la rinascita del Paradiso, accompagnati da un Dante moderno che per l'autore ha ancora molto da dire ai giovani d'oggi. Che cos'è la divina commedia se non un percorso? Si comincia male, infatti si chiama commedia, proprio perché comincia male e finisce bene, e dobbiamo attraversare l'inferno, affrontare tutte quelle che sono le cose peggiori e poi il percorso, la montagna del Purgatorio fino ad ascendere al Paradiso. Quindi è proprio un percorso interiore che ancora oggi ci può essere d'esempio per affrontare le difficoltà quotidiane. Hai raccontato la divina commedia su TikTok, Dante si sarebbe iscritto? Secondo me sì, perché Dante contamina in maniera pazzesca la divina commedia, fa una sorta di unione di tanti linguaggi diversi ed è molto moderno. Io sono convinto che Dante avrebbe usato non solo TikTok, che è il social dei giovani, ma avrebbe usato anche i vari profili social proprio perché, come lui voleva usare la lingua del popolo, il volgare, per arrivare a tutti, era disposto anche a scrivere la divina commedia in un linguaggio comprensibile. Oggi, se vogliamo parlare ai giovani, l'unico modo è usare il loro stesso linguaggio. Altrimenti la divina commedia e Dante stesso diventano una sorta di monumento, qualcosa di irraggiungibile, che non c'è assolutamente utile. Invece Dante ci può ancora parlare, ci può dire che può esserci un nuovo modo per affrontare le cose, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché ognuno di noi si è perso in una servo scura e ognuno di noi può tornare a rivedere le stelle. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che, come di consueto, le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito etvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di ETV. Grazie invece per l'attenzione, l'augurio e di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti.